Quest'anno il caro scuola è destinato a incidere ancora di più sulle famiglie a causa dei continuamenti che si rilevano nelle utenze. A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, mentre gli studenti si ritrovano allegri tra i banchi di scuola, i genitori devono fare i conti con le spese di libri e cancelleria. Tra matite, penne, zaini e libri, ogni anno per le famiglie italiane c'è un onere economico oggettivamente consistente, quasi in contrapposizione al diritto allo studio. Mai come quest'anno molte famiglie stiamo risentendo di questo caro libro, anche perché va a incidere sulla famiglia, perché ci sono anche bollette da pagare e quindi il rincaro anche delle tasse non aiuta per quanto riguarda la scuola, anche perché è un diritto di tutti i bambini. Tutti i genitori ci lamentiamo di questo, perché è giusto che vengano aiutate, è giusto aiutare che lo Stato aiuti le famiglie che giustamente hanno un reddito pari a zero oppure basso, però è giusto aiutare anche le famiglie, la famiglia media italiana, perché anche se i genitori, chi lavora solo il padre e si lavora in due, è giusto che anche queste famiglie vengono aiutate, perché è sempre un costo che va a incidere, e notevolmente anche. Una cifra destinata a incidere sui costi di ogni famiglia, soprattutto da quando il Covid ha trascinato l'Italia nell'ennesima crisi economica. Un altro problema è legato alla questione del continuo cambio di testi scolastici. Ogni anno i libri vengono aggiornati con nuove edizioni e questo rende praticamente impossibile, nella maggior parte dei casi, poterli acquistare di seconda mano. Sono sempre di più i genitori in città che provano a vendere i libri di testo dei loro figli, ma non riescono a trovare acquidenti. I pochi fortunati riescono così a risparmiare circa 100 euro. L'aumento dei libri c'è stato, però è stato contenuto. Mi sembra che siamo intorno all'1-2% come stabilito dal Ministero. Purtroppo i libri già erano cari, per cui giustamente la gente ci lamenta perché già il libro partiva caro. Quindi sommato poi alle altre spese, giustamente pesa sulla famiglia sicuramente. Quello che chiedono le famiglie al Ministero sarebbe quello di dare un aiuto soprattutto a chi ha più di uno studente in casa. Perfetto. Ci sono delle domandine, anche dal punto di vista comunale, a cui molte domandine sono state fatte, però si stanno ancora aspettando dei buoni. Per esempio, il gelà fa parte di quelle che le dovrebbe mettere a breve, a quanto ho capito. Diciamo che il prezzo è stato contenuto perché c'è un aumento della carta, quindi dalla parte dello Stato c'è stata la sua parte. Ripeto, i libri sono già cari di persesso, già dall'anno scorso. A proposito di caro libri, in questi giorni è arrivato l'allarme del Kodakon sul aumento dei prezzi per la scuola. Il ritorno degli studenti sui banchi, secondo il Kodakon, sarà un vero e proprio massacro per le tasche delle famiglie tra libri, zaini, astucci, diari e tutto il materiale griffato. Si stima una spesa di 350 euro al ragazzo per le scuole medie e fino a 500 per le scuole superiori. Una spesa che ha visto, secondo la rilevazione dell'associazione, un aumento del 3,5% in più rispetto allo scorso anno.